Arrivano i dati definitivi dell'anno 2021 delle esportazioni distrettuali toscane. Si registra complessivamente un rimbalzo del 29,1%. L'export regionale ha toccato i 21,2 miliardi di euro, recuperando i livelli pre-Covid e superando di oltre 700 milioni il valore del 2019. Il dato emerge dal monitor dei distretti della Toscana, elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Il recupero rispetto al livello pre-Crisi è diffuso anche al sistema Moda, che è riuscito a riportarsi sui livelli del 2019, mostrando andamenti eterogenei tra le specializzazioni distrettuali. Crescita è importante rispetto ai livelli pre-Crisi comunque per l'oreficeria, che segna un più 23,5%. Si confermano positivi risultati anche per la filiera agroalimentare, con esportazioni superiori al 2019 in tutti i distretti. I vini dei colli fiorentini e senesi segnano un più 14,8%. Il distretto dell'olio toscano, infine, conferma il livello del 2020, con circa 640 milioni di euro, è una crescita del 12% rispetto al 2019.